allora per stasera ho deciso di fare una ricettina che ho trovato voglio provare da aggiungere alle mie ricette di quello che si cucina che si può cucinare in camper ho deciso di fare delle specie di sofficini con le patate quindi adesso lessato 500 grammi di patate così che sono diventati molle adesso aspetto che si raffreddi poi mi sono già preparata i 220 grammi di farina uovo pizzico di sale e preparo l'impasto e poi ci metto il ripieno dentro che può essere qualsiasi cosa io ho deciso stasera di fare il cavolo avevano deciso sì con un po di sugo anche il cavolo con un po di sugo è una punta di mozzarella è una punta di mozzarella vediamo come verranno bene ho schiacciato le patate ho messo un uovo adesso lo sto ho messo un po di sale adesso lo sto mescolando ora vado ad aggiungere un po di farina un po alla volta ok 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 e voilà panettino fatto dunque ho steso il panetto con la pellicola perché ahimè non ho il mattarello ora sto ricavando dei dischetti con il bicchiere perché questo c'ho e continuiamo così finché non abbiamo fatto è finito tutta la pasta, io la chiamavo pasta ma poi alla fine sono patate però comunque allora ecco qua dunque ora prendiamo uno poi ci ficchiamo un cucchiaino di pomodoro pezzettino diverso diverso e proviamo a chiudere carino ora ora lo vado a mettere nella padella bella bella calda con un filo d'olio e faccio così per tutti gli altri vediamo cosa viene vabbè alcuni non sono di aspetto proprio invitanti però che se ne frega non venire buoni adesso li ho messi in padella con un po' d'olio vediamo lasciamo di cuocere vediamo ok ho tolto la parte sopra perché secondo me non andava bene giriamoli vabbè non male divisione sono proprio carini ovviamente siamo in pendenza quindi l'olio va tutto di qua vabbè giro 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 sono proprio carini in questo lato hanno brossolito di meno mettiamo un po' di olio di là andiamo così ok belli belli adesso ci aggiungo gli altri proviamo ho preso quello con il sugo e la versa è buonissimo approvatissimo approvatissimo bravo 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 ora mi ne sono accogliendo così sono ancora un piatto così sono venuti a mare infatti gli daremo a Marco e Busca però buonissimi sì approvati wow wow ma no no Grazie.